Dai Michele, andò, andò, facciamo il posto, facciamo il posto, io faccio il mio lavoro, il suo lavoro qual è? Eh, devo capire, il bottiglione a che serve? Fammi capire. Non lo sa, ci domanda dire tutto. Camille, posso chiedere il bottiglione a che serve? Questa è che cazzo la carico? Dai la carico io, forza, basso il bicicletto, forza. No, no, allunga qua, allunga qua, fino al comune dì. Tanto, ti ho bagnato lì. Antone, Antone. L'hai bagnato lì, l'hai bagnato lì. Eh, è bagnato lì, ci va. No, l'hai bagnato lì, l'hai bagnato lì.